Su alcune cose 5 Stelle e Lega sono sempre andati d'accordo, tutti e due hanno avuto un atteggiamento nei confronti dell'Europa un po' ostile, tanto per semplificare, anche su alcuni argomenti come gli extracomunitari, non dico che erano posizioni simili, ma certamente il Movimento 5 Stelle non era posizione di sinistra, però questo governo nasce oggi da, ed è la dimostrazione ed è la dimostrazione del fatto che le parole in politica contano pochissimo, tutti e due questi partiti, Lega e 5 Stelle, i contraenti di questo governo, che cosa hanno fatto negli ultimi 5 anni? Ci hanno fatto una testa così sulla storia dei premier o dei governi non eletti dal popolo, questo governo nasce, quando nascerà e se nascerà, come è probabile, da due grandi tradimenti, uno l'ha detto Sallusti prima, cioè un elettore, anche il sottoscritto, un elettore che in un collegio ha votato un leghista, in un collegio uninominale, non voleva un accordo tra la Lega e i 5 Stelle, ma lo ha votato magari come elettore di Fratelli d'Italia o come elettore di Forza Italia, dunque c'è già un primo tradimento che nessuno dice, ma è sotto gli occhi di tutti, cioè dire, gli elettori che hanno votato molti deputati della Lega non volevano un'alleanza con i 5 Stelle, erano magari elettori di Forza Italia o di Fratelli d'Italia. Il secondo tradimento è quello del premier, ragazzi, per cinque anni hanno distrutto il governo Letta, poi Renzi e poi Gentiloni dicendo che non era stato eletto dal popolo. Oggi abbiamo assistito a questo signore, un signor nessuno, che è sostanzialmente un burattino in mano ai due di oscuri, cioè dire a Salvini e Di Maio, che ha letto un compitino e che nessuno conosceva fino a una settimana fa, nessuno, probabilmente in Puglia, di cui è originario anche il conduttore di questa trasmissione, caro Nicola sei più conosciuto te di Conte, credo in Puglia, cioè sto facendo un sondaggio, credo che Nicola Porro, adesso lo farò alla radio questo sondaggio, conoscete di più Nicola Porro oppure Conte, vedrai che esce Nicola Porro. Questa soluzione qui è peggio delle cose che accadevano e abbiamo criticato tutti dopo tanti anni nella Prima Repubblica, perché ogni tanto nella Prima Repubblica con il pentapartito i cinque partiti si mettevano d'accordo su un nome, spesso era della democrazia cristiana, che non era espressione in quel momento diciamo della maggioranza della DC, ma era espressione diciamo di una corrente importante della democrazia cristiana, ma aveva una sua logica, un suo consenso eccetera eccetera, in questo caso è tutto stravolto, c'è un signore che veramente non è nessuno, è un signore che fa un professore di diritto privato e a mio parere per decenza avrebbe dovuto dire purtroppo prevale l'esibizionismo, la vanità, per carità anche noi ce l'abbiamo e ce l'ha pure Conte, uno che doveva dire a Mattarella guardi non sono in grado, mi dispiace non è il mio mestiere. Pubblicità, saluto Giuseppe Crusciani, tutt'ora della Zanzani.